ciao ragazzi benvenuti sul mio canale in questo video voglio mostrarvi un nuovissimo acquisto che ho fatto su sito zoom ed è una spugna però non è una comune spugna ma serve per la depilazione allora come possiamo vedere è a forma di cuore e ha due lati di diverso colore questo celeste e l'altro lato rosa uno è meno rubido sarebbe questo celeste mentre invece l'altro lato è più rubido è molto pratico da utilizzare molto morbido e in pratica basta diciamo passarlo sulla parte interessata ma faccio un esempio del braccio e strofinare così per rimuovere i vostri peli superflui molto facile basta strofinare così e indolore quindi non ha non abbiate paura quindi utilizzando questa spugna potete evitare i rasui e le cerette che sono tanto dolorose e fastidiosi soprattutto per molte donne ve lo consiglio il prezzo è minimo quindi io l'ho pagato 80 centesimi massimo sul sito zoom dove io lo compro lo potete trovare 2 euro quindi vi conviene provarlo sinceramente io comunque qui sotto nell'info box lascio comunque il link per poterlo acquistare perché secondo me ne vale la pena provare qualcosa in dolore per la depilazione io l'ho provato e mi sono trovata bene quindi ve lo consiglio questo qua che dire spero che questo video vi sia stato utile lasciate un like condividete il video con tutti i vostri amici iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video